Sara Cutarelli, autrice di uno dei quattro gol della GSM Verona qui a Perugia, quattro gol che non consentono al Verona di trovarsi con il doppio risultato a disposizione domenica, ma è comunque una vittoria importante. Sì, è una vittoria importante perché non abbiamo sottovalutato il Perugia, data la sconfitta contro la Roma del 6-0. Abbiamo lavorato molto e quindi questa vittoria ce la meritiamo. A me fa tanto piacere perché quest'anno ci hanno seguito molto, il mister ha lavorato molto con noi e quindi è una vittoria meritata. Per domenica quali aspettative? Bisogna lottare perché non è facile e penso che la qualità ce l'abbiamo. Siamo in casa e dobbiamo dare tutto perché dobbiamo vincere assolutamente. Grazie.